eccomi qua e questo è il grandissimo risultato del cazzo dei capelli che ho fatto a ghiacce madonna praticamente qualcosa ha preso e qualcosa no sono tipo sciatusciata mi sento una gola torre anzi mi sento una pedina del monopoli mamma che brutta madonna guarda madonna come ho fatto bionda e adesso che cazzo faccio adesso e adesso subito ho bisogno dei consigli perché vi sto facendo arrestare a tutti quanti madonna qualcuno mi aiuti qualcuno mi aiuti però però guarda qua tipo se tu mi guardi alla lontana assomiglia a jenny guyler madonna sono tipo sciatusciata che dici dietro ha preso il colore che non mi posso vedere guarda ha presa non lo so mi sono arrovinata lontana assomiglia la forma assomiglia lontana assomiglia